New Benedict School, all over the world, since 1928. La scuola svizzera Benedict School vanta competenza e metodi di apprendimento apprezzati dagli studenti di tutto il mondo. La scuola si propone come punto di riferimento per chiunque non voglia perdersi in astratti mnemonismi e voglia approfondire le lingue, conoscere le arti, le scienze e il business di tutto il mondo. Dopo un test gratuito, la Benedict pianifica il corso ideale, inserisce quindi l'allievo in un corso collettivo o gli prepara un percorso individuale. Gli insegnanti madrelingua, laureati e specializzati si recano ovunque e si tengono costantemente aggiornati con le tendenze evolutive del mercato. Benedict propone anche traduzioni, interpretariato, vacanze studio, recuperi di materie scolastiche e informatica. Visita il nostro sito www.benedict.it, scoprirai molti altri servizi Benedict o telefonaci a 059-375252. Mandaci una mail al nostro email info-benedict.it Siamo aperti tutto l'anno!